Si occupa l'ora di Rosane? Guardi che abbiamo convocavo l'assessore Saccagni per questo Non ci vuole ricevere la Saccagni, stamane ha detto ce l'ha da fare No, ce l'ha detto ora, la imposta Allora vedite ci riceve la Saccagni Non qui, non qui, non qui, qui c'è l'ora Bene, ma allora è l'ora Qui accanto, la sala qui accanto Comunque Rossi c'era essere svignata, è stato ripreso Grazie E buon lavoro Grazie Grazie